Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene vecchi trapani siamo i GRANNAS E siamo tornati con un nuovo episodio di ROTTO DI JOAN Incora, ancora Ancora? No vabbè non è possibile Siamo ancora in cerca della prima vittoria E questa è la squadra che ti affronteremo per cercare di fare la prima vittoria Basta da domani si cambia modulo Basta da sempre si sa perchè non c'hanno lo stemma del tram Ah Ffff Ergenzia Che è? No no vabbè non mi spieghi Svane Steiger come fa Abbiamo la volta No 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 io non gioco più No no io mi sono lotto il cazzo Cioè non è possibile Ma che cazzo vorvi Ma che cazzo vorvi Potrei poter Ma mi sta per seguitasco su Alex Cioè Alimundo e ce lo Compli ma che era un pazzo di danza Vabbè Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è ancora possibile Complimenti Ma se se l'era da cazzo No no mamma mia roba ce l'ha fatta a pangoglio ce l'ha fatta dai e dravani dai e mm andai subito giù 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 fallo rigori no ci 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 strano strano se l'ho fatta mamma mia l'ho vista brutta DAGIEEEE che bella cosa a vero di cui ho boccati i temi a forza cazzo c'è un po' di 85.000 manciao comunque c'era mi avessi sperato di tenere questa partita qua ma non è finita guarda guarda vai vai su duran che lancia lo scherzino ah la nostra guarda l'arbitro che si deve levare testo dietro guarda guarda passare su si mamma mia mamma mia bravo bravo grandissimo 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 sta fumo nel cuore lega va bene va bene va bene chi schia la fine collina chi schia la fine oh finisce qui dai chi ma io ho fatto un po' ma io ho capito ho capito ho capito ho capito che cazzo fa che cazzo fa l'ho passata mamma mia un belso che il muo rimasto questo passaggio guarda subline e tira e gozze ho capito che cazzo dallo con due non mi dico no no perchè era perchè perchè ha fatto sto passaggio oh ma non l'ha parata è tipo parato l'aria via via no via via oh bello 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 no no non puoi non segnare lì parco due robene però quanti se ne magna oh se ne magna mutanti eh carca pottana ah quello è il gol cazzo quelle è il s goal non mi fai che la prendo no male 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 caputana porca pottana capito cioè lui fece segnala dire sul secondo palo invece no proprio tutti cazzo guarda come andò a perdere guarda eh no non ci voglio credere no dimmi che n'è vero ti prego dimmi che n'è vero non ci posso credere no grazie grazie cazzo veloce ah sta veloce 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 meno male oh meno male stavo a cambiare il joystick cazzo perché non avevo visto che ero io cazzo 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 no no non ci posso dire no no tutto bello era tutto bello non sono statiati ma di morizia cazzo cazzo eh vabbè eh vabbè pari 4 a 4 cazzo cazzo ma quanto cazzo ci siamo avuto per vincere quante quante io ancora so al libido da goal cioè da robin che la so caga come cazzo ma perchè royce eh royce ma vabbè ma la ora è già più difficile segnare no io che ero una cazzata per FIFA per i standard di FIFA ero una cazzata comunque un punto dopo tre giornate meglio del Parma sta manna meglio del Parma cazzo 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 un punto guarda che bello storico comunque se vedete voi domani ciao mi parevo di prequa che mi sa che ti cano nato ciao si va ritico in tutto in diretta ciao